Sì, hai capito la stanza? No, non puoi. L'altro giorno fa bene. Allora... No, no. Adesso, è arrivato... Cosa, ma... Tanto la ritireranno prima... Prima di subito, no? Io ho sentito la baragna poveria, non solo la ritirano... Vieni, è arrivato... Qua te ha capito... Tu stai scherzando... Sì. 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 Sì.